Il motivo per cui vi parlo di intelligenza artificiale è non solo perché è la buzzword del momento, che sicuramente siete interessati, ma soprattutto perché, come dire, a un background specifico, sono riuscita a prendermi una laurea in intelligenza artificiale nel lontano 2006, quando ero una materia molto esotica e sconosciuta, e al momento collaboro ovviamente anche con il nostro product development nel capire quali sono gli use case più utili, visto che il mio lavoro è quello di spiegare le nuove tecnologie alle aziende, quindi sono un ricettacolo di use case anche per il nostro product development. Quello con cui vorrei iniziare, immagino che i film che vedete su questa slide li avete visti quasi tutti, almeno io sono ovviamente un'appassionata di fantascienza, quindi mi proietto nel futuro, e noto delle volte con dispiacere che quando pensiamo all'intelligenza artificiale, e poi torneremo anche sul nome, molto spesso l'immagine che se ne ha è molto negativa, cioè prima o poi magari nasce nel modo migliore come un aiuto all'essere umano, ma prima o poi diventa cattiva. Quindi fondamentalmente la nostra immaginazione è stata formata da una sorta di paura della tecnologia, e soprattutto dell'intelligenza artificiale. Questa è una sindrome che è chiamata la sindrome che è la paura delle minacce invisibili, e è molto ricorrente quando parliamo di tecnologia, proprio perché non la capiamo e quindi ne abbiamo paura. In realtà diciamo che anche il nome non aiuta, e infatti ci sono molti dibattiti, molti discussioni che avvengono tra i ricercatori e anche noi internamente. Innanzitutto definire l'intelligenza, sapete tutti che la definizione di intelligenza è dinamica, cambia. 50 anni fa l'intelligenza era solo quella aritmetica, adesso abbiamo capito che l'intelligenza è anche quella empatica, artistica, eccetera. Il termine artificiale poi in sé è negativo, in quanto immaginiamo un qualcosa che non è genuino, che non è vero, è una brutta imitazione di un qualcosa che, come l'intelligenza umana, ci immaginiamo come genuino. Infatti molti già suggeriscono di iniziare a chiamarla come intelligenza applicata o intelligenza aumentata, in quanto fare in modo di avvicinarsi anche al concetto di intelligenza artificiale. La realtà dei fatti è che molto spesso noi la utilizziamo senza rendercene conto. Alcuni stavano nominando prima alcuni casi. Ogni volta che utilizzate un chatbot si tratta di natural language processing. Ogni volta che utilizzate probabilmente Waze, Spotify, Netflix, applicano del machine learning per ottimizzare i risultati che voi avete. Utilizzano i dati, le vostre preferenze, per darvi dei risultati iper personalizzati, quindi designati appositamente per voi. Noi utilizziamo quindi già il grande ombrello delle tecnologie sotto il termine artificial intelligence senza rendercene conto. Infatti a me piace sempre citare John McCartney, che è stato chi ha coniato il termine intelligenza artificiale nel 1956, quindi molti anni fa, e lui diceva non appena funziona non la chiameremo più intelligenza artificiale. Infatti, di nuovo, c'è il grande tema della tecnologia invisibile. Io faccio sempre il paragone della vostra lavatrice. Io immagino che voi non abbiate paura della vostra lavatrice, almeno lo spero per voi, perché è un elettrodomestico che è insieme a voi da molti anni, ne capite il beneficio e semplicemente lo usate. Quindi in molti casi, quando si parla di AI, sta avvenendo già questo. Quando noi ne abbiamo paura, è perché fondamentalmente ancora non ne abbiamo capito l'uso o non la stiamo usando. È importantissimo ribadire che, molto spesso nei giornali si legge, ok, l'AI vi ruberà il lavoro, l'automazione inizierà a sostituire questo e l'altro. Adesso non ho in slide la ricerca, ma fondamentalmente McKinsey ha fatto un'analisi su tutte le attività lavorative del mondo e hanno stimato che da qui al 2030 solo il 6% di queste attività può essere sostituita o meglio automatizzata interamente. Ma quello che avverrà sarà qualcosa di diverso, ossia che circa il 60% di varie attività può essere automatizzato. Quindi significa che in modo verticale sono poche le attività che possono essere completamente automatizzate, ma in modo orizzontale sono molti. Quindi significa che in ognuno delle nostre attività che svolgiamo adesso ci sono delle fasi che possono essere automatizzate. Ma c'è l'altro grande mito, l'intelligenza artificiale è intelligente. Allora dipende da cosa consideriamo intelligente. Il punto è che una macchina può dare dei risultati o può imparare solo se gli diamo dei dati. E l'esempio lampante, ad esempio questo è un caso famoso che è del 2016, che è Tate Witz, che era stato lanciato da Microsoft, fondamentalmente il principio qual era. Un algoritmo che fosse in grado di twittare in modo autonomo, ma che riceveva il training da Twitter stesso. Noi sappiamo benissimo che Twitter è un luogo che non è politically correct, ma anzi il contrario. Quindi il fatto che il bot sia stato trainato da queste opinioni molto deformate delle realtà ha fatto sì che il bot stesso iniziasse a twittare le stesse cose degli utenti. Quindi questo banalmente che cos'è un esempio? Non è la macchina che è intelligente. Se tu, come in inglese si dice, trash in, trash out, cioè se tu comunque metti spazzatura nell'algoritmo, avrai spazzatura. E per questo è importantissimo verificare non solo la quantità, ma anche la qualità, in questo caso, dei dataset. Introduciamo poi il titolo del mio speech, è Intelligente Artificiale e-commerce retail. Quindi il secondo tema, l'e-commerce. Fondamentalmente, io ho dato un'occhiata a quelli che sono i dati, fondamentalmente, Italia versus il resto. E sono dei dati estremamente interessanti. Allora, al momento, a livello mondiale, l'e-commerce copre solo il 13% delle vendite. Quindi significa che moltissimo, noi ancora acquistiamo moltissimo offline. Quindi la nostra vita fisica è ancora molto importante, non è soltanto virtuale o digitale. Ci sono, ovviamente, l'Asia la fa da padrone, quindi in Asia c'è una tendenza ad acquistare online molto più forte rispetto in Europa. In Europa, ad esempio, ci sono, se noi andiamo a vedere, la spesa media di ogni cittadino UK è quella che c'è la più alta, intorno ai 1000 euro. Noi siamo in una fase media, diciamo, la più bassa è la Polonia, con circa 300. E per quanto riguarda l'Italia, in realtà, noi siamo il nostro, noi siamo molto digitalizzati, soprattutto utilizziamo tantissimo lo smartphone, ma ancora rispetto agli altri paesi europei, compriamo molto poco online. Noi abbiamo un 63% contro un 93% appunto di UK o dei paesi nordici. Quindi sicuramente siamo un po' indietro. Significa che in Italia, ancora, qui siamo molto in modo fisico. E questo è un tema estremamente interessante, perché molto spesso si parla di retail apocalypse, nel senso leggiamo tutti i dati che riguardano gli Stati Uniti. Mi ricordo l'anno scorso qualcosa come in due mesi 35.000 negozi chiusi e quant'altro. In Italia sta accadendo meno. Questo non significa che è un segnale rassicurante, perché quello che sta accadendo è che stanno chiudendo moltissimi piccoli negozi, quindi uno su dieci in chiusura, e quindi profumerie, oreficerie, piccoli negozi di abbigliamento, eccetera. Si stanno espandendo in un modo, forse neanche immaginato, i centri commerciali, un più 39%, e che cosa sta succedendo? I grandi gruppi, da Zalando, Amazon e quant'altro, stanno diventando i grandi aggregatori. Perché? Perché in Italia non ci sono né abbastanza catalogo, né abbastanza investimenti. Quindi fondamentalmente quando pensiamo ai grandi giganti dell'online, avevamo Ux, che comunque ovviamente adesso è parte di Net-A-Porter, però è difficile trovare dei grandi gruppi. Questo non significa che non dobbiamo preoccuparci, semplicemente che forse siamo qualche anno indietro rispetto a Stati Uniti o Asia Pacific. L'altro tema molto interessante è che i negozi, scusate, i player fondamentalmente online, come ad esempio Missguided, in realtà stanno aprendo dei negozi fisici. E questo è un punto interessantissimo per me. Che cosa significa? Molto spesso il negozio fisico non capisce la digitalizzazione e quindi non è in grado di creare quell'omnicanalità né quell'esperienza di acquisto che vorrebbe, ma al contrario il player digitale che è già bravissimo sul digitale apre anche il negozio fisico. Quindi questo è un livello di competizione molto alto da cui stare attenti. Quindi, di nuovo, il messaggio non è il digitale ha soppiantato il fisico. Sono entrambi dei metodi di acquisto validi vanno monitorati entrambi. E per quanto riguarda il grande, il macro trend che noi tutti viviamo ormai da qualche anno è quello che si chiama l'experience economy. Appunto, ormai credo che sono anni che in tutte le conferenze siamo ossessionati dal concetto di customer experience nel senso che dobbiamo tutti essere ossessionati dal customer fare la customer experience essere omni channel e quant'altro sono concetti che a livello teorico sono sicuramente capiti non è detto che vengano applicati al momento in modo corretto in modo consistente. Almeno quello che vedo io nel mio lavoro nella mia esperienza quotidiana lavorando anche con grandi brand ci sono molti che ottimizzano solo una parte dell'esperienza del consumatore ma è difficile avere un overview. sicuramente è necessario quindi quando si parla di experience economy capiamo tutti che cos'è che non è più importante il prodotto o il servizio ma la consistenza dell'esperienza di ogni touch point di ogni momento in cui tu interagisci con quel determinato brand e vediamo su questo che cosa sta succedendo grazie non solo alla tecnologia ma grazie anche alle abitudini che noi iniziamo ad avere il tema della subscription sta arrivando anche in Europa subscription come ad esempio Birchbox o altri sono già da anni diventate molto famose negli Stati Uniti da noi un po' meno ma adesso stanno diventando rilevanti soprattutto su alcuni ad esempio se io in ufficio so che tutti i giorni mangio l'insalata per me è molto più comodo fare la subscription ad un servizio che quotidianamente mi porta in ufficio l'insalata oppure un panino e quindi questi sistemi stanno diventando molto più comuni anche in Europa non pensate solo al mondo del food ma ovviamente questo per tutto il beauty fashion e quant'altro l'altro tema l'altro trend molto importante parte dell'experience economy non è solo il social commerce qui vedete un'esperienza che parte da Instagram e ovviamente ci sono tutti i vari step ma shopping dove sono quindi sia che io sia su Instagram sia che io sia sulla mia gaming console sia che io stia guardando la tv sia che sia sul mio smartphone offrirmi la possibilità di fare un'azione immediata e qui c'è anche il tema del micromomento che poi vi spiegherò un po' meglio che è molto facile da capire siamo in una fase di overload di canali quindi l'omnicanalità non è soltanto mobile e web o offline ma l'omnicanalità sono ogni giorno abbiamo un nuovo canale e quindi dobbiamo presidiarlo ma il suo nuovo canale ha dei suoi momenti di interazione molto diversi dagli altri quindi cosa significa individuare quello che è il micromomento il momento in cui il nostro utente sta per fare qualcosa quindi all'intenzione come inizialmente l'esempio di io attraverso i dati posso fare un'analisi predittiva e posso sapere che tu vorrai quel libro presidiare questo momento è importantissimo perché ovviamente posso offrirti una comunicazione personalizzata in modo da direzionarti anche verso quello che è l'oggetto o il servizio che stai cercando altro trend molto importante noi stiamo lavorando su questo con SnapTech è la ricerca visuale di nuovo paradossalmente io vedo una ragazza che sta indossando una giacca che mi piace fotografia da qui faccio una ricerca immaginiamo su SnapTech ma lo stanno applicando anche Zalando Asos eccetera e ho magari non esattamente quel modello ma quello che più si avvicina a quel modello altro sta cambiando molto anche il mondo dei social media nel senso che tutti l'altro grande buzzword erano quelli degli influencer tutti conosciamo da Chiara Ferragni e quant'altro negli ultimi anni sta un po' cambiando questo mondo che cosa significa che il grande influencer non è più gettonatissimo cosa significa che io so benissimo che Chiara Ferragni viene sponsorizzata dai vari brand per indossare questo o l'altro quindi il grande influencer sta diventando come l'advertising classico cioè non c'è una grande differenziazione quindi stanno nascendo moltissimi strumenti come ad esempio questa start up con cui collaboriamo che si chiama Duel che ci aiutano a individuare quelli che sono i micro-influencer quindi influencer che hanno dai 10 ai 100.000 fan e non sono perché ai brand piacciono molto perché sono molto più spontanei perché comunque le raccomandazioni che fanno riguardo a un certo tipo di prodotto sono qualcosa in cui credono e quindi non c'è più il concetto di advertising ad esempio Duel ha un sistema per individuare attraverso keywords quelli che sono i micro-influencer e poi costruire una community di ambassador e ad esempio vengono utilizzati i post di Instagram per promuovere un certo prodotto quindi peer-to-peer utilizzando gli influencer quello che poi a livello un po' più macro stiamo vedendo che è avvenuto negli ultimi 20 anni che è più o meno quella che è la storia di internet noi siamo passati da una modalità di interazione con le macchine di ricerca quindi pensiamo 1995 ricerco interagisco col motore di ricerca quindi è importante il click più o meno dieci anni dopo mettiamo 2005 nascita del mondo dei social media che cosa è importante è importante che i vostri utenti condividano le loro opinioni condividano le foto condividano con voi informazioni quindi in un certo senso anche costruire una relazione tra il brand e gli utenti a partire da circa il 2015 è stato citato anche prima siamo nell'epoca conversazionale c'è la nascita non solo del chatbot ma anche del voicebot con cui interagiamo e al momento il voicebot come dire l'interazione è un po' limitata perché almeno io utilizzo vari voicebot ma fondamentalmente per dargli il comando play spotify o cose del genere quindi l'interazione è ancora limitata ma sarà così per poco perché è un un passaggio epocale perché fondamentalmente noi iniziamo a parlare con le macchine cosa che prima non potevamo fare e noi parliamo normalmente tra di noi quindi è un'interazione assolutamente umana essendo umana ci immaginiamo che sarà il modo in cui interagiremo con le macchine nei prossimi x anni finché non avremo probabilmente una lente a contatto che ci proietterà appunto sull'occhio delle immagini eccetera però per diciamo i prossimi anni quello conversazionale sarà la modalità principale vi vorrei far vedere un se parte il video un esperimento questo è un pilota quindi non guardate graficamente è molto brutto però è un pilota in realtà noi ci siamo divertiti a costruire quello che abbiamo chiamato un emo bot quindi un bot che cerca di capire le tue emozioni qui c'è il signor Craig che l'emo bot chiede ciao Craig come stai e lui invece di interagire manda si fa una foto quindi ovviamente questo è un database di foto si fa una foto si fa un selfie e la manda al bot quindi ha selezionato questa foto e giustamente il bot fondamentalmente gli dice sei arrabbiato che cosa vuoi fare per rilassarti e gli propone leggi qualcosa di rilassante guarda qualcosa per sorridere ascolta qualcosa e rilassati e lui in questo caso decide guarda si voglio guardare qualcosa e gli fa selezionare tutte delle categorie fondamentalmente rilassanti che sono dalla commedia al documentario al ricette salutiste in questo caso sceglie il documentario quindi gli dà una lista e poi lui giustamente gli chiede guarda vuoi fare un abbonamento oppure vuoi averlo per un tempo limitato e gli dà l'opzione si guarda puoi avere la subscription in cui ha due mesi gratuiti e fondamentalmente poi dice si è disponibile in tutti i tuoi device questo è un esempio di utilizzo e vi ho fatto vedere questo non il classico chatbot perché è un utilizzo un po' più avanzato molti sistemi di intelligenza artificiale possono riconoscere al momento le espressioni facciali principali non lì ci sono c'è un tema molto importante probabilmente non possono riconoscere dei dettagli però se uno è fortemente arrabbiato o sta sorridendo sì e quindi in base a questo si può dare un trigger per far partire un'interazione che in questo caso è un'interazione che poi ha ovviamente un carattere commerciale perché c'è quello di dire ok allora fai la subscription e quant'altro vi faccio vedere un altro esempio di sempre che parta aspettate no il video prima non è partito ma ok lo saltiamo un altro esempio di esperienza di shopping nel video precedente che non vi ho fatto vedere c'è un'altra startup con cui lavoriamo che si chiama Blippar fondamentalmente si parte da un augmented reality in cui da un magazine di ricette si si ha fondamentalmente la ricetta e quindi nel tuo smartphone hai tutte le indicazioni su quelli che sono tutti i vari ingredienti necessari per questa ricetta e ad un certo punto la persona dice sì ma io non ho ad esempio ho finito le uova e quindi in questo caso l'applicazione gli suggerisce di dove sono i negozi più vicini per andare a comprare le uova poi l'esperienza di shopping continua perché arrivato immaginiamo nel supermercato succede questo di nuovo l'applicazione ti guida attraverso il supermercato per andare nello scaffale dove sono le uova e ti può anche suggerire altre cose di nuovo personalizzazione con i tuoi dati io magari so che stai seguendo una dieta specifica ti suggerisco guarda non comprare solo le uova vai a prendere anche questo ingrediente o credo che ti piaccia questo e l'altro quindi di nuovo si può personalizzare si può utilizzare la tecnologia per risolvere dei problemi molto pratici in questo caso io mi sento molto vicina a questo caso perché mi perdo sempre nei supermercati odio fare la spesa nei supermercati quindi questo è utilissimo perché ti direziona e ti può dare anche dei consigli iper personalizzati perché vi faccio vedere un esempio di augmented reality quando stiamo parlando di intelligenza artificiale perché fondamentalmente l'intelligenza artificiale è una tecnologia orizzontale cioè voi immaginate che attraverso tutti questi strumenti soprattutto il mobile o attraverso applicazioni che comunque offrono un servizio ai vostri utenti voi raccogliete dati raccogliete informazioni abbiamo visto che l'intelligenza artificiale si nutre di dati e quindi è orizzontale perché raccogliere dati da qualsiasi fonte permette poi di costruire machine learning e algoritmi che possono essere in un certo senso applicati su una serie di altre applicazioni quindi non pensate all'EI come un qualcosa di a se stante ma normalmente è una sorta di layer che viene applicato a qualsiasi tipo di interazione che potete fare quello che abbiamo visto qua è quello che chiamiamo la grande dispersione nel senso che i punti di acquisto e i punti di interazione si moltiplicano quello che ovviamente è importante è raccogliere i dati e capire dove sono quello che abbiamo chiamato i micromomenti cioè quali sono i momenti in cui dovete offrire o un prodotto personalizzato o un servizio o una comunicazione personalizzata in modo da capire l'intenzione e offrire quello che la persona desidera in quel momento c'è un grandissimo tema sui dati che è emerso fortemente negli ultimi due anni quello scandalo di Cambridge Analytica con GDPR e quant'altro e io stavo leggendo alcuni articoli nei giorni scorsi che c'è anche una forte polemica su tutti quelli che sono i dati di terza parte nel senso come dire ok io non raccolgo direttamente i dati ma posso creare dei modelli di lookalike perché attraverso i dati di terza parte faccio il matching tra i miei dati e quelli che sono anonimi allora questo è sicuramente ancora valido nel senso quando parliamo di marketing automation il lookalike è utilissimo soprattutto nella fase di acquisizione e questo è così perché sono dati anonimi ma in realtà moltissime ricerche dimostrano che allora se c'è una proposizione forte nel senso che io all'utente offro un qualcosa che a lui interessa quindi offro un'esperienza personalizzata gli faccio risparmiare tempo gli offro quel servizio che lui sta cercando l'utente di solito è positivo cioè vuole condividere i suoi dati quando è che non si vogliono condividere quando inizi a spammarmi con la tua marketing automation mandandomi delle email che non voglio ricevere e questo spesso è la grande differenza che sembra una cosa semplicissima ma molti brand non lo fanno quindi il punto non è è assolutamente offrire la personalizzazione e di solito se è spiegato il perché e se è anche associato a dei meccanismi di loyalty o dei meccanismi di offrirmi un servizio la maggior parte degli utenti vogliono condividere i loro dati perché capiscono a cosa servono è ovvio che se c'è non trasparenza e vengono utilizzati appunto per spammare a un certo punto poi anche gli utenti se ne andranno però questo è un tema molto importante che è molto semplice però spesso non capito io vi faccio un esempio di nuovo di misguided noi abbiamo fatto questa campagna che è con un chiamiamolo non banale però con un marketing automation e allora loro lo chiamano trigger based marketing che cosa significa significa che c'è prima un'analisi di tutti i dati comportamentali ovviamente raccolti con i dati di prima parte ma anche con un matching dei dati di terza parte ovviamente anonimi dati comportamentali e poi perché trigger based marketing perché in base ai cambiamenti che l'individuo ha e quindi cambiamenti che possono essere cambiamenti di gusti o anche degli eventi classici come un compleanno quindi anche degli eventi noti in base a questo si fanno partire delle campagne queste campagne hanno un sistema di scoring nel senso che in base a quella che è la reazione si personalizza di nuovo il messaggio se l'utente reagisce a quella push notification quell'email con un certo contenuto allora io lo direziono verso un certo altro contenuto se non reagisce allora aspetto mando un altro tipo di trigger e vedo a quello che reagisce però fondamentalmente è di nuovo utilizzare l'automazione in modo personalizzato e è possibile personalizzare anche attraverso l'automazione di nuovo la chiave è avere i dati e avere anche quei dati di terza parte che permettono di avere dei sistemi di lookalike un altro esempio questo è un altro esempio con Dickens Spade fondamentalmente di nuovo un altro esempio di personalizzazione molto semplice qui ci sono tre elementi prima mostrare gioielleria oppure borse e quant'altro anche questo è personalizzato in base all'utente quindi decido qual è l'ordine da mostrare in base di nuovo a quei trigger a quei comportamenti che vedo nell'utente altro esempio questo è MACT è una start-up belga con cui appunto che fa parte del nostro acceleratore di start-up anche in questo questo esempio è l'esempio dell'immagine della ricerca visuale che vi ho fatto vedere prima velocizzo un po' perché abbiamo solo 5 minuti vi vorrei far vedere senza spiegarvi i tecnicismi perché in realtà quelli sono meno importanti vi vorrei far vedere alcuni esempi applicati al marketing di quello che sta avvenendo adesso search result quindi iper personalizzati di nuovo in questo caso qual è il il concetto io ho dei dati posso personalizzare i risultati in modo dinamico i vantaggi quali sono ovviamente le conversioni sono molto più alte posso anticipare i bisogni ma anche quello che si chiama digital empathy che cos'è il concetto di digital empathy è di nuovo intercettare il micro moments nel momento che per me il brand sta empatizzando con me perché capisce quello che io sto per volere e quindi è un concetto molto forte non mi fa perdere tempo mi fa risparmiare tempo fondamentalmente l'altro esempio sono quello del quello classico dell'e-commerce delle product recommendation in questo caso c'è una grande differenza rispetto al al passato scusate la differenza è che non ci sono più i in passato quello che veniva utilizzati sono solo i dati storici quindi questo significa il motivo per cui tu avevi appena comprato il libro e ti veniva suggerito lo stesso libro o ti veniva suggerito un qualcosa di simile a quello che avevi comprato o basato sui tuoi gusti o su quello di persone simili a te perché si utilizzavano solo i dati storici adesso con ovviamente sistemi di machine learning che cosa si utilizzano si utilizzano i dati contestuali quindi della tua sessione di browsing questo che cosa permette di fare non solo di matcharli con i dati storici ma di darti anche delle raccomandazioni su quello che stai cercando adesso esempio banale io sto cercando un costume il suggerimento è sandali cioè tutti gli elementi correlati su quella sessione di browsing ovviamente tenendo conto anche delle informazioni che si hanno su di me a livello storico e questo è molto importante perché si evita appunto di avere quelle raccomandazioni inutili e quindi anche di spendere del budget di advertising inutili altra modalità o evoluzione del marketing automation non più il sistema normalmente che cosa fa in passato con il marketing automation tu definisci un target non so donne dai 25 ai 35 che abitano a Rimini con certi gusti manda questa newsletter ok questo è un po' il passato che cosa significa ad oggi grazie ai dati il sistema ti suggerisce quindi questo è il concetto di suggerimento next best action che cosa fare in questo caso ti suggerisce il momento migliore ad esempio non mandare un'email alle 8 di mattina perché la persona non la legge ma mandale alle 8 di sera stessa cosa per il canale quindi non mandare un'email ma una push notification di solito perché ha molti dati e può fare un'analisi in tempo reale riguardo a quello che è il canale preferito o il tempo più migliore per mandare quel tipo di messaggio di nuovo anche il concetto di connected audiences è molto importante se colleghiamo il nostro sistema di commerce al nostro sistema di marketing semplicemente si può fare un tracking di quello che è stato acquistato ed evitare di come dire di nuovo mandare campagne di retargeting a quell'utente che è già acquistato noi ad esempio in questo caso con il nostro data cloud abbiamo anche dei dati offline e quindi cerchiamo di incrociarli anche a livello di solito anonimo su alcune categorie che possono essere preferibilmente acquistati online piuttosto che offline allora qual è e qui è un po' un sommario di quello che vi ho raccontato oggi attraverso degli esempi ci sono delle aree di trasformazione che sono assolutamente importanti abbiamo visto il grande tema dell'experience economy e che cosa è importante nell'experience economy non solo essere avere una customer experience consistente su tutti i canali ma capire come questo può essere collegato anche al concetto di loyalty molti brand è quello che è uno dei trend del futuro al momento spesso la loyalty è un concetto passivo nel senso che io comunque continuo a comprare quel brand un po' per abitudine non perché mi identifico attivamente nei valori di quel brand o nella comunicazione di quel brand questo sta cambiando in futuro la loyalty sarà attiva quindi ci sarà una decisione di seguire quel brand piuttosto che l'altro quindi experience economy diventa ancora più importante abbiamo visto prolificazione di canali quindi proliferazione di canali quindi l'omni channel è molto più importante è molto più grande presidiare tutti i canali importantissimo avere i dati che provengono da tutti i canali individuare i micro moments e offrire una iperpersonalizzazione quindi esperienza iperpersonalizzata e il terzo punto quello che io vi ho fatto vedere evitando tecnicismi ma dandovi degli esempi di applicazione appunto uomini e macchine insieme quindi in trasparenza e capire come l'uno può essere di beneficio all'altro quindi grazie mille e abbiamo tempo per alcune domande se ci sono grazie Luisella un applauso prima delle domande vi ricordo che su status.webmarketingfestival.it potete dare un voto agli speech quindi andate e votate domande non siate timidi inizio io per riscaldarvi dai allora visto che siamo nella sala e-commerce volendo iniziare un percorso verso la direzione che ci hai consigliato qual è lo strumento che ci può portare un vantaggio significativo ma con un costo di implementazione basso a oggi domanda ottima direi anche se è difficile allora dipende di solito se non si utilizzano dei sistemi di marketing automation io è la prima cosa che consiglio essere anche sicuri marketing automation è più nel breve periodo poi nel lungo periodo essere sicuri di non avere i vostri dati in dei silos quindi capire quali dati avete avete dei dati dell'e-commerce del sito web dati che vi vengono da partner eccetera e armonizzarli in modo che possiate usarli e appunto applicarli per non solo per la marketing automation ma anche per personalizzare prodotti servizi e comunicazione altre domande io ne approfitterei visto che comunque sia la velocità con cui le evoluzioni stanno andando avanti è ormai spaventosa sono Giacomo di Mama Digital e le volevo chiedere se ci può dare qualche dato nel caso esistano di come l'intelligenza artificiale applicata agli e-commerce possa aumentare i tassi di conversione delle vendite c'è una reale differenza ad oggi abbiamo dei dati sì c'è una reale differenza allora i dati sono in media del allora quando si c'è una raccomandazione fatta da un machine learning su un prodotto immaginiamo l'e-commerce di solito c'è un 10% in più del basket quindi si tende ad acquistare il basket totale è maggiore del 10% quindi già è un dato interessante poi sulla conversione siamo tra il 15% e il 17% ovviamente dipende molto allora io vi sto facendo gli esempi di grandi player ovviamente è ovvio che questo può cambiare molto se si tratta di un e-commerce insomma un po' più piccolo però ci sono dei dati effettivi di e secondo me al di là della conversione che è interessante è l'aumento del basket e poi c'è un altro dato che secondo me è legato al marketing automation ottimizzato dal machine learning i dati di abbandono del carrello in alcuni casi sono tra il 70 e il 90% quindi di nuovo quando si abbandona il carrello di nuovo marketing automation per identificare perché è stato abbandonato il carrello e mandare una comunicazione iper personalizzata di nuovo per far riprendere l'esperienza di acquisto e di solito il carrello è abbandonato o perché è troppo complicato il processo di check out quindi un dato interessante o perché non è disponibile ad esempio un sistema di pagamento locale ad esempio posso pagare solo con visa o comunque non con col sistema di pagamento con cui vorrei pagare ultima domanda una domanda relativa ai chatbot in che modo utilizzeresti i chatbot per incentivare una vendita cioè l'utilizzo allora lì nel senso di solito i chatbot sono già utilizzati per incentivare una vendita e è stato anche provato che è apprezzato dagli utenti che cosa significa allora io posso interagire con un servizio di un prodotto per richiedere delle informazioni in questo caso io richiedo delle informazioni ma immaginiamo che il chatbot sappia già chi sono quindi abbia anche già una serie di dati per offrirmi qualcosa che mi interessa in quel tipo di interazione si può fare la proposta guarda acquista questo servizio acquisto questo prodotto cioè l'esempio che abbiamo visto prima dell'emobot in questo caso si parte da uno stato d'animo cioè che la persona in questo caso è arrabbiata e il chatbot ti suggerisce ti posso suggerire di guardare in questo caso lui seleziona il documentario ma immagino ti posso suggerire di guardare un documentario per calmarti però quello che secondo me è molto interessante al di là di utilizzare il chatbot per come dire un'esperienza ad acquisto standard molti esempi che vengono fatte con le telco non so io voglio ricaricare la mia carta telefonica utilizzo il chatbot questa è un'esperienza molto semplice ma quello che vediamo che funziona è che un'esperienza che nasce con un altro intento se è ben personalizzata può trasformarsi in un'esperienza d'acquisto grazie c'è un'ultima domanda bonus consiglio come possono i piccoli e-commerce combattere i grandi colossi cioè limitare i danni grazie allora bella domanda secondo me è quello non allora se trovare la propria nicchia nel senso che probabilmente come dire se sei in battaglia con il nemico che utilizza una serie di armi e che tu non hai cambiare il campo di battaglia in questo caso quindi trovare la propria nicchia i piccoli e-commerce funzionano molto bene quando offrono appunto qualcosa di introvabile cioè qualcosa che posso trovare solo in quelli e-commerce e anche garantire un certo tipo di servizio servizio che può significare anche contenuto può significare creare una community quindi cercare di non avere l'esperienza e-commerce come un qualcosa di freddo di statico cioè non basata solo sul prezzo perché probabilmente quello non funziona ma aggiungere essere creativi quindi aggiungere community contenuti un qualcosa di unico che puoi trovare solo in quelli e-commerce e in quel sito web aggiungo io un dettaglio velocissimo chi conosce Aliexpress? ok Amazon la ficca chiede la conoscete tutti Aliexpress in realtà è entrato da due anni in Europa sull'Italia sta iniziando a fare l'integrazione adesso entrerà con una fee che è la metà metà secco ok situazioni come queste nel caso in cui Aliexpress riesca davvero a prendere volumi significativi sulla country vuol dire una rivoluzione nel mercato perché Amazon per forza dovrà rivedere le fee cosa che ha fatto ad esempio in Spagna in Spagna delle fee più basse perché perché c'è stata una class to action chiamiamola che ha fatto un casino quindi ok e-commerce piccolo in realtà però a oggi ci sono ancora a parte le nicchie che si dice sempre ma delle opportunità da sfruttare l'aumento della velocità della dinamica secondo me le può aumentare quindi stiamo sul pezzo andiamo sempre sulle novità che ce n'è ancora tanto allora ringraziamo Luisella un applauso grazie chiamiamola di